amici di youtube ben trovati da marco liguori in questo video segnaliamo un nuovo terremoto grado 2,6 della scala ritter il sisma ha coinvolto la zona dei campi flegrei si è sentito anche nella città di pozzuoli tanti napoletani che sono scesi in strada abbandonando le proprie abitazioni nei prossimi giorni nelle prossime ore vi fornirò ulteriori dettagli su questo sisma che fortunatamente non ha registrato danni a persone o cose amici di youtube io vi ringrazio per l'attenzione lasciate il vostro commento iscrivetevi al canale condividete questo video ciao a tutti